Questa settimana in Consiglio regionale abbiamo presentato un'interrogazione che vuole chiedere a Rossi, principalmente, quello che sta facendo relativamente alla macro-regione. Sappiamo che c'è già un ufficio, pare, in Europa, che comprende l'Umbria, Toscana e Marche, per la macro-regione. Noi chiediamo che ci informi, che faccia sapere al Consiglio regionale che cosa sta avvenendo, vorremmo sapere se c'è un progetto, quali intese sono state saldate ad oggi e la prospettiva di questa macro-regione. Non vorremmo mai che questa operazione fosse una mera operazione di marketing elettorale per le aspirazioni che sappiamo che ha il nostro governatore alla segreteria del Partito Democratico.